Si è spento, all'età di 74 anni, Lino Lacagnina, una vita per il giornalismo. Era pubblicista dal 1974. Collaboratore del quotidiano La Sicilia da diversi lustri, si occupava di politica e istituzioni. È stato per anni anche conduttore di una delle trasmissioni televisive più seguite degli anni 80 a Caltanissetta, seguendo la Nissa in serie C2. Nelle immagini che vi proponiamo si festeggiava proprio la Nissa promossa in serie D, con Salvatore De Luca e il club bianco scudato al gran completo. Era il 1984. È stato anche direttore responsabile del periodico Cartagio del comune di Caltanissetta. L'amministrazione e la redazione di Telefutura Nissa esprimono le più sentite condoglianze ai familiari.